Buonasera, tra poco la prossima edizione del nostro telegiornale, questi titoli principali fermato un pregiudicato romeno dopo un inseguimento con sparatoria in corso indagini per rintracciare due complici fuggiti, poi ci occuperemo di emergenza e urgenza, oggi Open Day a cura del servizio del personale del 118 con i bambini, quindi a contatto, i bambini delle scuole elementari a contatto con il sistema di emergenza e urgenza, infine pagina dedicata allo spettacolo i fusibili di scena domani sabato al Michele Abate di Caltanissetta, questo è altro tra poco, appuntamento tra pochissimo con il nostro telegiornale. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale, fermato un pregiudicato romeno dai poliziotti della sezione volanti dopo un inseguimento con sparatoria lungo la strada provinciale 1, sarebbe appartenente ad una banda dedita alla commissione di furti, altri due complici per sfuggire ai poliziotti dopo aver abbandonato una BMW rubata in contrada Canicassè, si sono dileguati a piedi per le campagne, sono in corso attive indagini per individuare e rintracciare i due fuggiaschi, ma vediamo come è andato questo episodio, stamane verso le 4 del mattino su linea di emergenza 113 veniva segnalato il furto di una Ypsilon Lancia, i poliziotti della sezione volanti intervenivano immediatamente in aviale Stefano Candura dove intercettavano una BMW poi risultata rubata che fuggiva a tutta velocità in direzione dello stadio Tomaselli di Pian del Lago, gli agenti si lanciavano all'inseguimento dell'auto che proseguiva la sua corsa lungo la strada provinciale 1 in direzione di Delia, nel corso della fuga gli occupanti della BMW esplodevano alcuni colpi di pistola, gli agenti rispondevano al fuoco con colpi esplosi in aria, l'inseguimento aveva termine infine nei pressi di contrada Canicassè dove i fuggiaschi abbandonavano il mezzo e approfittando del buio si davano a fuga precipitosa proprio per le campagne circostanti, nella occasione i poliziotti riuscivano però a bloccarne uno, un rumeno di 36 anni, mentre gli altri due fuggiaschi riuscivano a dileguarsi, l'uomo fermato che attualmente si trova in questura risulta avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Un comunicato stampa dei consiglieri comunali di Caltanissetta, Francesco Dolce e Annalisa Petitto, a distanza di qualche mese, ci riferiamo alla questione degli asili nido, dei ritardi nei pagamenti degli emolumenti agli operatori, a distanza di qualche mese, così comincia il comunicato, ci troviamo nuovamente costretti a denunciare i costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti degli emolumenti spettanti agli operatori da parte del Lati, che gestisce i servizi asili nido comunali, assistenza domiciliare anziani e diversamente abili. Una situazione insostenibile, continua la nota, che si protrae ormai da troppo tempo, creando preoccupazione ed eventuali disagi, evidenti disagi, scusatemi, agli operatori dei servizi e alle loro famiglie, i quali si vedono costantemente negati i più elementari diritti. Nonostante il contratto nazionale delle cooperative sociali preveda che le retribuzioni debbano essere corrisposte entro il trentesimo giorno successivo al mese di riferimento, abbiamo riscontrato, continuano i due consiglieri comunali, che il Consorzio ATI, costituito dalle cooperative Progetto Vita e Città del Sole, provveda alla liquidazione degli emolumenti con ritardi che spesso vanno oltre i 60 giorni. Da sottolineare come questa situazione si ripeta, nonostante il Comune provveda regolarmente a liquidare le spettanze dovute al Consorzio ATI. Nei mesi scorsi, dopo aver presentato una interrogazione con la quale denunciavamo i ripetuti ritardi nei pagamenti, abbiamo chiesto al Comune, continuano dolce e petitto, di effettuare un controllo incrociato tra la data di emissione delle buste paga e il giorno effettivo dei bonifici, al fine di appurare eventuali irregolarità del Consorzio ATI e giungere eventualmente ad una risoluzione del contratto per giusta causa, come previsto peraltro dall'articolo 43 del relativo capitolato d'appalto. Tuttavia, concludono i due consiglieri comunali, non ci risulta che tale controllo sia stato fino ad oggi effettuato. Ed ora un servizio, i bambini delle scuole elementari della città a contatto con il sistema di emergenza e urgenza, oggi giornata propedeutica a cura del personale del 118. Oggi nasce come obiettivo principale l'Open Day 118, che è l'apertura delle porte del servizio di emergenza regionale ai bambini di scuola elementare. Scopi e obiettivi del progetto di propedeutica è quello di informare i bambini a quello che è il sistema di emergenza e urgenza per farli crescere e rimanere ottimale. Sicuramente un bambino crescendo e conoscendo al meglio il servizio di emergenza e urgenza e quindi il sistema 118 riuscirà a dare una risposta immediata nella cultura della formazione e del soccorso sanitario. Io devo obbligatoriamente ringraziare il mio direttore di centrale, il responsabile dottore Giuseppe Misurache, l'azienda ospedale della Sant'Elia e il SEUS, che in questo momento ci ha fornito a supporto i mezzi di soccorso che voi qua state vedendo. Non ci limitiamo semplicemente a operare nei servizi di emergenza e urgenza ordinari o straordinari, ma qua abbiamo dei mezzi che servono al coordinamento eventuale delle max emergenze sanitarie. Ritornando alla giornata propedeutica, i bambini in questo momento hanno seguito una lezione frontale che parlava di quello che era il sistema di emergenza del 118 e dopo eventualmente come riuscire a chiamare e seguire le indicazioni prearrivo da parte degli operatori di centrale. Dopo questo step didattico frontale che li ha fatti giocare un pochino col sistema e li ha fatti giocare anche su dei manichini, dicendo loro che spesso due mani sul torace possono riuscire a salvare una vita, non diciamo che loro da piccolo devono riuscire a fare un massaggio, ma il fatto stesso di riuscire a capire cosa possa significare, riuscire a supportare un cuore che si è fermato, per noi è l'obiettivo principale di queste giornate che aprono la visione e le conoscenze ai bambini delle scuole elementari. Buongiorno, qua siamo in via Gattani Sette chiedendo spirito, una persona è stata investita. 118 pronto? Da quale città sta chiamando? Caltanissetta? Stiamo mandando l'ambulanza più vicina e l'ambulanza è più idonea. 2, 3, tiriamo e poi lo carichiamo. Il signore è cosciente però potrebbe avere un trauma della colonna, noi lo immobilizziamo. 1, 2, 3, tiriamo e poi la situazione che spesso capita a un bambino a casa è quella della classica bruciatura o eventualmente del nonnino che perde conoscenza, il fatto stesso di riuscire a saper comporre il numero unico 118 composto da tre cifre 118 e riuscire a seguire le indicazioni e riuscire a seguire e rispondere alle domande precise dell'operatore di centrale sicuramente può salvare una vita. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la pagina dedicata allo spettacolo i fusibili in scena qui in città a Caltanissetta domani sabato al Michele Abate di servizio. Sabato 15 ottobre il Centro Culturale Michele Abate di Caltanissetta ospiterà la manifestazione I Sapori del Nisseno a cura di Allacorte dei Monsù, ospite d'eccezione il duo cabarettistico i fusibili che si esibirà alle 20 e 30. Grazie a questa organizzazione siamo riusciti a fare i fusibili show a Caltanissetta per la prima volta dopo un'estate ricca di date, abbiamo debuttato i fusibili show, ricordiamo a San Cataldo, è stato subito un successo, poi le repliche nei paesi sparsi della Sicilia e finalmente a Caltanissetta per tutti coloro noi concittadini che ce l'hanno chiesto, spero che sarà un magnifico evento come quello che è successo a San Cataldo e in altre zone della Sicilia. I fusibili si presenteranno al pubblico nisseno con una formazione parzialmente rinnovata. La novità è Salvatore Iacon, un grandissimo autore, un bravissimo attore teatrale, infatti ci siamo conosciuti quando i fusibili, prima di essere fusibili, facevano parte di una compagnia teatrale. Era l'unico che poteva essere il degno sostituto di Giulio Amico, ricordiamo vecchio fusibile negli anni passati. Lo spettacolo giunge al termine di un tour estivo molto intenso che ha visto peraltro i fusibili protagonisti di una guerrita selezione, finora coronata dal successo, finalizzata ad un'importante ribalta nazionale. Sì, qualcosa è bolla in pentola, magari per scaravanzia non diciamo nulla, però stiamo affrontando vari percorsi comici, laboratori di cabarei sparsi per la Sicilia, abbiamo fatto anche delle selezioni su Colorado, vedremo a dicembre, ci sono delle finali, ci sono dei vari scontri veri e propri con altri cabarettisti di tutta Italia, vedremo come andrà a finire e magari chi lo sa ci saranno presto buone novità. Quindi l'appuntamento sabato 15 ottobre alle 20.30 con lo show dei fusibili, ingresso gratuito. Esatto, gratuito, non mancate, sarà uno spettacolo divertente, vario, dai ritmi incalzanti, saranno 90 minuti di piene e stane risate. Ed ora una pagina dedicata allo sport, al calcio, domenica la Nissa in scena al Palminteri contro la capolista Riviera Marmi, la società lancia un appello perché le tribune siano gremite, ne parliamo con il giornalista Vincenzo Di Maria, grazie per essere intervenuto. Grazie a te, grazie a voi. E' profondo conoscitore delle cose della Nissa. Ci proviamo. Vediamo di inquadrare questa partita che attende la squadra di casa. Bene, domenica come hai detto tu, la Nissa gioca in casa per la sesta giornata di campionato, gioca contro la capolista al momento del campionato, il Riviera Marmi, sinora quattro vittorie, è una sconfitta, quindi una squadra assolutamente da tenere sotto occhio, non bisogna sottovalutare la formazione trapanese, la Nissa che si è allenata al meglio in settimana, facendo i conti anche con l'infermeria, con Strano che è uscito appunto domenica, anzitempo dal rettangolo di gioco per un problema alla coscia destra, l'ustazione invece per il centrale difensivo Russello, per lui si parla addirittura di due mesi di stop, dunque una Nissa diciamo in emergenza, ma mister Sferrazza ha assolutamente preparato al meglio questa sfida e come hai detto tu nell'introduzione, la società invita i propri sostenitori ad assiepare lo stadio, il glorioso Palmintelli per sostenere l'undici che scenderà in campo. Ci auguriamo da tifosi della Nissa che appunto i biancoscudati possano trarre un vantaggio della gara a Casalinca contro la Capolista per ottenere tre punti che significano dare continuità dopo la vittoria, la buona prova e convincente di domenica in quelle di Partanna Mondello contro la Palmonval. Quindi vedremo come andrà a finire sicuramente una partita che diventa importante il match-clou della sesta giornata di campionato eccellenza. Vincenzo, è prematuro probabilmente, ma si può cominciare a tracciare un primo bilancio del rendimento della Nissa? Diciamo che all'inizio era partita tra virgolette con handicap, non era andata bene con pareggi e sconfitte, però questa squadra nelle ultime gare ha mostrato un netto miglioramento soprattutto sul piano del carattere, del temperamento all'interno del rettangolo di gioco. È chiaro, una squadra quasi completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, ricordiamo, con la splendida vittoria del campionato, è una squadra tutta nuova, tutta da conoscere, fatta di elementi certamente di categoria. Quindi ci vuole il tempo che ci vuole per assimilare quelli che sono anche i dettami tattici e soprattutto quello che dè la richiesta del mister. Ma diciamo che questa squadra e questi giocatori sono sulla buona strada. Ecco, è cominciato da poco, relativamente da poco, il campionato della Nissa, ma sta per cominciare un altro campionato che ti riguarda più da vicino e riguarda TCS, quindi una nuova trasmissione dedicata allo sport, al calcio che sarai tu a condurre. E allora, parliamo di questo nuovo prodotto, Fischio Finale. Fischio Finale, sì, abbiamo dato questo titolo assieme alla redazione TCS, intanto colgo l'occasione per ringraziare te per lo spazio che mi stai dedicando, per la promozione a questo nuovo format televisivo, sportivo. Io ho, diciamo, in questi anni, sempre attraverso altri emittenti televisivi condotto sempre lo stesso programma, adesso lo facciamo attraverso TCS, una televisione storicamente importante, qui a Caltanissette non solo, ringrazio il patron Pastorello per questa opportunità, sicuramente ci divertiremo assieme a voi, che sarete sicuramente in tanti a seguirci. Gli argomenti, come hai detto tu, saranno quelli... Ecco, il calcio nostro locale. È chiaro, il calcio locale sarà l'argomento principale, il campionato di eccellenza, apriremo una parentesi anche con il campionato di Serie D, con la San Cataldez, e ci auguriamo anche di trattare, di trovare lo spazio giusto, questo è un impegno che mi sono preso per il calcio giovanile, perché è importante dare anche spazio ai giovani, alle piccole leve che crescono in questo territorio dal punto di vista calcistico, ma ci occuperemo anche di altre discipline, di volta in volta, in base anche all'importanza che ovviamente noi della redazione daremo all'evento stesso. Quindi sarà un programma sicuramente molto snello, ma ricco di argomenti, assieme a me non lo sveliamo, ci sarà un opinionista fisso, che gli sportivi di seni conoscono, non è detto, magari potrai anche fare tu un'incursione all'interno del programma, perché no? Ti stimo tantissimo e dunque non ci sono assolutamente problemi da questo punto di vista, quindi come dicevo ci sarà un opinionista fisso e poi un ospite in studio, che ogni settimana cambierà l'appuntamento e dunque alla prima puntata di Fischio Finale, martedì, subito dopo il telegiornale, intorno alle 21.10, 21.15, e speriamo bene, incrociamo le dita. Per me è il debutto a TCS, mancava questo, ecco abbiamo fatto da radio e di altre televisioni, adesso TCS, speriamo di iniziare in grande spolvero assieme a voi. Andrà sicuramente bene, come diceva Pippo Baudo, forse no, Chiambretti, Chiambretti sarà un successo, e allora io intanto ringrazio Vincenzo Di Maria, che è un nuovo acquisto di TCS, ringrazio voi che siete stati all'ascolto e in visione di questa edizione del nostro telegiornale, anche per oggi è veramente tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime edizioni, lasciandovi ad uno spazio commerciale. Grazie ancora, grazie Vincenzo Di Maria e buona serata. Grazie a tutti.